Qual è il ruolo degli infermieri nella centrale di tracciamento al San Donato? La centrale di tracciamento sappiamo quanto è un setting in questo momento determinante per la prevenzione e il controllo dell'epidemia. L'infermiera inevitabilmente si è messo a disposizione per cercare di dare un'impronta che è un'impronta di tipo assistenziale perché nel momento in cui andiamo ad avere contatto con persone a cui dobbiamo comunicare la positività di un tampone c'è una dimensione che non è solo di tipo sanitario ma anche fortemente emotiva. Quindi l'infermiera si mette nella condizione migliore per poter entrare in una dimensione relazionale che consenta di rasserenare, quindi non solo di dare informazioni tecniche sul come gestire l'isolamento in casa, su come cercare di utilizzare tutte quelle precauzioni che consentano di non contagiare le persone conviventi e di gestire al meglio la propria salute, ma anche la dinamica relazionale per poter entrare in una condizione anche rassicurante che possa essere di presa in cura della dimensione personale.